cambio totale ristrutturazione ricostruzione inizio di una nuova era tutti i termini che possono adattarsi a questa estate calda e brillante del genoa un cambio totale come si diceva direi doveroso perché la stagione scorsa è stata veramente un qualcosa da non ripetere una stagione che è finita con una salvezza strappata all'ultimo momento con una prestazione tremebonda una prestazione addirittura mesta carica di paura per un possibile epilogo non preventivato un epilogo al quale il grifone è andato veramente vicino però come si suol dire tutto è bene quel che finisce bene a patto di non ripetere certi errori e la sensazione è che il genoa abbia in mente veramente un qualcosa di diverso che lo spavento sia stato in qualche modo un insegnamento perché il modus operandi degli ultimi anni ha portato a prendersi sempre più rischi ad arrivare veramente veramente vicini ad un qualcosa che sarebbe stato assolutamente negativo e probabilmente anche catastrofico la risposta del popolo genuano è entusiastica perché siamo vicini ai 10.000 abbonamenti ed è veramente tanto per appunto quello che è successo l'anno scorso e anche quelle che sono state come vi dicevo le dinamiche delle ultime stagioni perché più di una volta abbiamo visto il presidente preziosi d'estate fare anche dei colpi promettenti o trovare delle grandi intuizioni tipo piontek nell'estate scorsa salvo poi non dare continuità a questo tipo di trovate a questo tipo di colpi venderli molto presto e mettere la squadra in condizione di non poter costruire un qualcosa di duraturo mentre adesso ripeto la sensazione è che il genoa e la sua dirigenza abbiano capito che può essere arrivato il momento per riportare il grifone il club più antico d'italia stabilmente nelle zone nobili o quantomeno nella parte alta della classifica al riparo da possibili sorprese in negativo la prima scelta importante riguarda la panchina una panchina che ha cambiato inquilino sette volte nelle ultime tre stagioni e che ora è proprietà di un allenatore che sicuramente può portare dei concetti molto specifici può dare un'identità può dare un gioco di qualità al genoa ovvero aurelio andrea zoli io ve l'ho detto più di una volta e lo ribadisco sono assolutamente persuaso dal fatto che se l'empoli l'anno scorso non avesse esonerato andrea zoli nella parte centrale della stagione si sarebbe salvato avete visto quello che ha fatto all'inizio soprattutto alla fine del campionato con l'attuale tecnico del genoa e quindi questa è una scelta che parla di qualità che parla di volontà di giocare un calcio diverso perché andrea zoli è uno che ha una filosofia ben marcata ma anche una grande capacità di adattarsi mettendo i propri concetti portando le proprie linee di gioco ma mutando anche molto all'interno della stagione e all'interno della partita ed è su questo che si è imperniato il lavoro nel lungo ritiro estivo del nuovo allenatore del genoa di aurelio andrea zoli che parte con la traccia del 352 ma ha intenzione di lavorarci molto di sperimentare di cambiare di passare anche sul 3412 3421 343 perché no attenzione anche per certi momenti il passaggio a una difesa 414 312 quello che era stato il modulo che gli aveva permesso di portare l'empoli in serie a e con cui aveva anche iniziato la stagione scorsa sarò poi variare nel suo secondo ciclo alla guida dei toscani andrea zoli era già stato al genoa a livello di giovanili da calciatore a 17 anni arrivò con il progetto di fare una carriera nel mondo del calcio è carriera che poi non gli è arrivata sul campo ma gli è arrivata appunto in panchina e puntare su andrea zoli come vi dicevo vuol dire puntare su un tecnico che ha le idee molto molto chiare andrea zoli ha lavorato tantissimo sia con la lavagna vi faccio un esempio prima dell'amichevole di domenica col bordeaux la riunione tecnica è durata più di un'ora andrea zoli ha spiegato tante cose ci ha detto nelle interviste post le varie amichevoli che ha giocato di aver visto cose buone di aver visto cose ancora da migliorare perché ovviamente non si parla di un gioco molto basico è un gioco che viene elaborato che prevede molto coraggio prevede la volontà sempre di essere aggressivi e di andare in avanti per cui è normale che ci sia da metterci un pochino di tempo per sviluppare certe meccaniche e certe idee però le idee appunto di andrea zoli sono molto chiare e io l'impressione che possano sposarsi benissimo con il gruppo che la società gli sta mettendo a disposizione è ancora incompleto il genoa in qualche reparto bisogna valutare quelle che potrebbero essere le uscite di questo mese di agosto però le entrate ci parlano di sogni e allora andiamo a vedere che tipo di genoa possiamo aspettarci per questa stagione come detto la traccia di partenza è quella di una difesa 3 di un centrocampo a 5 oppure a 4 più 1 e di un attacco a 2 in porta rimane jonut radu e anche questa è un'ottima operazione perché l'inter lo ha riscattato a titolo definitivo in estate dopo che l'anno scorso il 22 nero meno ha fatto una stagione di ottima crescita di ottima imposizione e ha confermato di essere un elemento futuribile ma già pronto nell'immediato anche in estate all'europeo under 21 quindi il genoa ce l'avrà a disposizione per un'altra stagione comunque c'è un secondo affidabile come il brasiliano jandrei c'è addirittura un terzo d'esperienza come marchetti importa le cose sono assolutamente sistemate non sono ancora sistemate per quanto riguarda il pacchetto arretrato ma solo per questioni numeriche solo perché negli ultimi tempi sono uscite due pedine di scorta chiamiamole così come zucanovic e jarozinski per cui c'è solo da implementare il roster a livello di ulteriori alternative ma quella che dovrebbe essere la difesa titolare è un altro reparto che dà delle garanzie perché è rimasto il capitano mimmo crescito giocatore fondamentale sia per quanto riguarda l'esperienza la guida ma anche la capacità di impostare di far uscire il pallone con il sinistro lui che ha sempre lavorato sulla fascia e che adesso si piazza dietro per sfruttare proprio questo tipo di qualità in più è rimasto anche il cuti romero grande cessione estiva del genoa è stato venduto alla juventus per oltre 30 milioni bonus compresi però per il 21enne perentorio difensore argentino c'è la possibilità di un'altra stagione in prestito nella marassi rosso blu proprio per crescere e per limare quello che a mio modo di vedere rimane il suo limite attuale è un difensore affidabile un difensore forte un difensore anche antico di quelli che piacciono a me che vanno sull'uomo che si fanno sentire che non fanno prigionieri però appunto questo deve essere gestito deve imparare a gestire appunto un pochino di più la sua fisicità la sua esuberanza il suo agonismo perché l'anno scorso è arrivato qualche cartellino di troppo a guidare il tutto arriva un elemento esperto un elemento voglioso di un'altra sfida importante un elemento che è stato forse un pochino sottovalutato ovvero il colombiano cristian sapata arrivato dal milan con un'operazione che secondo me può portare tante soddisfazioni a lui e al popolo genuano bisognerà valutare le sue condizioni fisiche perché qualche fragilità muscolare sapata l'ha mostrata nelle ultime stagioni però lo si è visto fin da subito molto coinvolto e parliamo di un difensore che sfiora le 300 partite in serie a fra udinese e milan un nazionale colombiano lo abbiamo anche visto come alternativa ma comunque all'opera nell'ultima copa america un difensore che porta reattività che porta velocità che porta capacità di guida del reparto che porta gol di testa ne ha subito segnato uno nell'amichevole vinta 3 a 2 contro il bordeaux insomma un elemento che forse al milan non consideravano più utile come alternativa ma anche qua si potrebbe fare qualche discorso ma che sicuramente per il genoa può diventare un elemento importante un elemento di leadership un elemento anche di valore tecnico poi come alternativa c'è biraschi difensore che ha dimostrato l'anno scorso di essere assolutamente affidabile oltretutto particolarmente adatto anche alla volontà di andrea zoli di cambiare durante la partita sia mutando con gli undici sia facendo delle sostituzioni perché biraschi volendo può fare il terzino destro può fare il difensore centrale perfetto per fare il primo di destra di una difesa 3 ci sarebbe anche gli amic rientrato dal prestito a perugia è stato provato è anche piaciuto in certi passaggi di qualche amichevole però potrebbe essere un elemento in uscita e come detto ci si aspetta l'ingresso di qualcosa qualcosa magari a livello di alternativa per il centrale mancino e qualcosa magari anche sugli esterni perché sugli esterni è stata fatta un'altra operazione secondo me molto molto interessante una scommessa ma fino a un certo punto il genoa ha riportato in italia per la corsia mancina antonio barreca ex primavera e terzino sinistro poi lanciato dal torino barreca che viene da un anno dimenticabile perché fra monaco e newcastle ha giocato poco e non ha dato assolutamente nessun riscontro però barreca torna in italia con l'esperienza di un anno all'estero un'esperienza sicuramente formativa e questo è un giocatore che a volte è stato anche un filo sottovalutato perché quando emerse nel torino si capì subito che aveva ottime qualità in fase di spinta sia a livello atletico che a livello tecnico guardatevi ad esempio l'azione che crea nel finale di partita dopo quasi 90 minuti giocati alla fine di luglio inizio di agosto contro il bordeaux l'azione che crea per il gol decisivo di iliemark se ne va via con grande prepotenza fisica e poi a grande lucidità nel servire l'assist barreca è un elemento che può tornare a far parlare di sé soprattutto se viene messo a giocare in un sistema nel quale lui ha tutta la fascia a disposizione e ha un difensore dietro che lo può tamponare perché le principali critiche mosse a barreca nei suoi anni di rivelazione al torino erano legate proprio a una fase difensiva che non aveva la stessa attenzione la stessa sostanza rispetto alla fase offensiva mettendola a lavorare tutta fascia questo aspetto può essere in qualche modo bilanciato dall'altra parte bisogna vedere perché è rientrato da vari prestiti formativi ghiglione ghiglione l'anno scorso con il frosinone ha assaggiato la serie a ha giocato una decina scarsa di partite ha fatto anche un gol a bologna prima si era sviluppato con due prestiti in serie b nel laterale di castelnuovo scrivia è un giocatore che ha dell'esuberanza fisica che ha dell'entusiasmo che anche della capacità di arrivare fino in fondo anche lui ha segnato un bel gol in queste amichevoli estive contro lione addirittura di sinistro però bisogna vedere se ha già lo status per essere un titolare assoluto da quella parte in ogni caso è una pedina interessante c'è comunque romulo che ha giocato soprattutto mezzala nelle ultime amichevoli ma che rimane un giocatore di fascia un giocatore esperto un giocatore polivalente credo invece un pochino meno alla possibilità di vedere il polacco jagiello su quella fascia andrea zoli lo ha provato sia contro il nante che contro il bordeaux da esterno a tutta fascia è un giocatore polivalente questo 21 n polacco preso dallo zaglebi di lubino è un giocatore che può usare entrambi i piedi ma è un giocatore che si trova sicuramente più a suo agio all'interno del centrocampo piuttosto che sull'esterno qualche criticità si è vista contro l'ant ma anche contro il bordeaux a sinistra si cerca un'alternativa barreca perché ci sarebbe il giovane ungherese schaefer ragazzo di 20 anni ragazzo anche applicato ragazzo che però forse ha bisogno di fare un pochino di esperienza in prestito in serie b per cui qualcosa anche di lì ce lo si aspetta veniamo al discorso del centrocampo perché da sabato il centrocampo del genoa ha preso una dimensione veramente diversa con gli ultimi due grandissimi colpi piazzati dal presidente preziosi e potrebbe non essere finita qui perché oltre alla session preso con un blitz in prima persona del presidente ibiza ha incontrato i suoi rappresentanti e ha chiuso subito portando a genova un elemento fondamentale dell'ajax che è arrivato fino alle semifinali di champions league l'anno scorso è arrivato in prestito anche saponara che dà ad andrea zoli quel fantasista quel trequartista tanto caro al tecnico rosso blu e anche questo parla di voglia di fare calcio di qualità perché quando nel tuo pensiero calcistico c'è sempre un numero 10 vuol dire che voglia di giocare che voglia di giocare bene oltre a questi due si sta parlando anche della possibilità che arrivi un regista giovane un pochino da rispolverare ma con delle qualità assolutamente interessanti sto parlando di chago maya dell'ill c'è una trattativa c'è la possibilità di chiuderla anche se con un investimento in doppia cifra quindi anche in questo caso significativo sarebbe la ciliegina sulla torta come si suol dire perché ripeto un ragazzo giovane che in brasilia ha fatto vedere tanto col santos in europa con l'ill un filino meno però questo regista mancino piazzato in un centrocampo del genere potrebbe davvero avere delle delle belle prospettive un centrocampo che anche molto ricco di alternative e per questo si potrebbe valutare qualche movimento in uscita attualmente la posizione centrale verrebbe ricoperta ovviamente dal danese la session un investimento non molto significativo a livello di cartellino perché costato circa un milione e mezzo un po di più se parliamo di ingaggio un ingaggio ricco si parla di un milione e otto a stagione per due anni con eventuale opzione sul terzo ma non è il caso di guardare tanto le cifre in questa operazione perché è vero che shen ha 33 anni però è anche vero che arriva un giocatore perfettamente integro e un giocatore dai valori clamorosi per quella che al momento nella griglia di partenza la dimensione del genoa perché parliamo di uno che ha sostanza e qualità di uno che in mezzo al campo governa la partita sia a livello muscolare che a livello tattico che a livello tecnico perché shen poi anche uno che te la può risolvere con i suoi calci di punizione giocatore veramente di grande dimensione oltretutto venendo dall'esperienza lunga all'ajax è anche uno che può fare tante cose adattarsi in tante posizioni andare a giocare in tante zolle del campo e in più è vero non è freschissimo però è un giocatore perfettamente integro è un giocatore che ha anche sviluppato una carriera che parla per lui quindi sicuramente arriva un elemento mentalmente molto focalizzato grande 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 colpo la session al genoa così come può essere appunto un grande colpo saponara per l'ex trequartista della fiorentina ma soprattutto della sampdoria salto della barricata in un'estate il problema è sempre stato un pochino la discontinuità per le fragilità muscolari però è una cosa che l'anno scorso sembrava avere un pochino risolto anche parlato all'inizio della stagione scorsa dicendo di aver trovato soluzione a certe dinamiche difficili anche attraverso un aiuto esterno se saponara sta bene è un trequartista che incide che incide molto nel calcio italiano sia a livello di capacità di inserimento sia soprattutto a livello di raccordo del gioco in più c'è uno come radovanovic che è stato un investimento significativo dello scorso mese di gennaio e che nel roster dei centrocampisti prettamente difensivi è sicuramente la prima opzione lui è un posizionale è uno di recupero palla è uno con una costruzione piuttosto basica ma è un elemento che nelle rotazioni ci può stare piuttosto bene è vero detto ci sarebbe anche la possibilità di utilizzare romulo in mediana c'è un iliemark ritrovato dopo l'infortunio dell'anno scorso credo un pochino meno alla possibilità che abbia della pista sandro perché sandro ha un grande curriculum ha giocato nell'internazionale ha giocato nel tottenham però sia udine che a bene benevento ha dimostrato di non avere forse più l'intensità per poter essere un elemento affidabile nel calcio italiano è arrivato anche un giovane da battaglia come cassata che adesso ha un problema alla spalla ma che è un giocatore che può avere dei minuti perché è un elemento che deve crescere deve imparare anche lui a gestirsi un po tanti cartellini gialli ma è un giovane combattivo uno di quelli che va al fronte e non risparmia colpi in più andrea soli fra le sue tante lucubrazioni ci ha fatto vedere anche un pandev regista io non credo tanto che possa essere un'opzione per questa stagione però il macedone diventa una sorta di jolly nel mazzo dell'allenatore perché è un elemento di esperienza un elemento dei valori tecnici indiscutibilmente superiori è un elemento che può essere piazzati in tante zone e che comunque come raccordo fra centrocampo e l'attacco avrà le sue chance un attacco che minaccia di essere molto rinnovato dove c'è stato un colpo secondo me interessantissimo pinamonti 18 milioni da pagare fra un anno all'inter ma è un giovane che avrà dei fari addosso perché a 20 anni ha dimostrato di poter valere la serie a 5 gol l'anno scorso frosinone con anche delle situazioni tecniche veramente brillanti un bel mondiale under 20 giocato quest'estate e attendevo pinamonti a una chiamata del genere per un ragazzo di questa età e di questi valori essere il centravanti titolare di una squadra come il genoa in serie a è veramente un qualcosa che può portarti un trampolino enorme credo che sia pronto pinamonti credo che possa dare tante cose lo abbiamo visto un pochino imballato in queste amichevoli stive ma ci può stare pinamonti una bellissima chiamata e con quame può formare una coppia frizzante una coppia mobile una coppia in grado di integrarsi benissimo vediamo però se quame rimarrà al genoa perché ovviamente è preteso e potrebbe essere l'elemento utilizzato per fare un po di fisiologica cassa dovesse rimanere per stare bene con pinamonti per essere un titolare credibile e indiscutibile quame quest'anno deve alzare un filo l'asticella realizzativa perché è un giocatore che va via crea spazi crea situazioni si integra molto bene però deve fare qualche gol in più in più è arrivato un attaccante turco come gumus altro elemento mobile elettrico un mancino che fra le linee sguscia che ci mette sempre tanta intensità anche lui non è un bomber perché al massimo nella super league turca ha fatto sette reti però è un elemento pescato a parametro zero un elemento che può dare alternative vedremo se potrà darle anche tonni sanabria sanabria aveva iniziato benissimo a gennaio segnando tre reti nelle sue prime quattro partiti in serie a poi si è piantato lì anche sbagliato un rigore pesante con la roma di pesante ci sarebbe anche il riscatto alla fine di questa stagione 18 milioni di riscatto obbligato a patto che sanabria arrivi alla cifra di nove gol totali in serie a ne ha segnati tre dovrebbe farne ancora sei io credo che anche in questo caso ci sia la possibilità di farlo partire e di evitare questo tipo di sborso in spagna si parla di diverse destinazioni soprattutto l'ultimo nome emerso quello del lega nesi allora potrebbe essere interessante per integrare l'attacco la figura di una punta di stazza una punta come potrebbe essere babacar sempre parlando dei nomi che sono stati messi sul mercato primo perché pinamonti è sì un riferimento offensivo ma è uno che si integra molto bene con un centravantone lo abbiamo visto al mondiale under 20 con scamacca che lavorava di sponda pinamonti ha costruito una partnership perfetta secondo perché appunto sarebbe l'unico profilo che manca lì davanti ma lo avete capito a me questo genoa piace mi piace il modo in cui la società ha reagito ha ricostruito puntando sulla qualità di andrea zoli puntando su colpi che nessuno si poteva aspettare sarebbe molto bello se il campionato italiano in questa sua opera di rilancio e di crescita attraverso la crescita della classe media ritrovasse una nobile storica come il grifone aspettiamo il grifone protagonista in questa stagione di serie a aspettiamo Grazie a tutti.